Ciao a tutti amici di TecnoAndroid, andiamo a fare un approfondimento rapidissimo su questo Always On Display. È una levità, è un display nel display, è una funzionalità particolare che consente di visualizzare sempre orario e calendario anche a smartphone spento, quindi senza grande dispendio energetico. Andiamo a vedere subito come funziona, qui lo vedete in azione ma chiaramente si gestisce dalle impostazioni, scegliamo le impostazioni, display, eccoci qua, abbiamo Always On Display, ci clicchiamo sopra, scegliamo cosa mostrare, un orologio, il calendario o un'immagine, ad esempio un'immagine, possiamo scegliere l'immagine da utilizzare, ad esempio questa qui, andiamo indietro, torniamo indietro, riaccendiamo e spegniamo, aspettiamo e questo è il risultato. Always On Display è soprattutto su Samsung Galaxy S7 qualcosa di particolare perché non si limita a mostrare l'orario piuttosto che unicamente il calendario, ci sono anche i colori, anche questa mattina, anzi questo pomeriggio LG ha introdotto Always On Display sul suo G5, sarà la novità dell'anno? Prenderà piede su tutti gli smartphone, hanno spianato una strada utilizzando una tecnologia che tutto sommato già c'era. Bene amici TecAndroid, vi ringrazio per l'attenzione, qui dal Mobile World Congress è tutto, sono Carla Stea, ci vediamo al prossimo video, ciao!